La prego, accetti questo dono, comandante. Noi lo beviamo nelle occasioni speciali e questa lo è senz'altro. Grazie, Marcus del Popolo del Cielo. È un piacere, Lexa. Con Triclum, anche se è meglio non perne troppo. Clark, vorrei brindare insieme. È un onore per me. Comandante, mi permetta. Stasera celebriamo la neonata pace. Domani pianificheremo la guerra. A quelli che abbiamo perso. E a quelli che presto troveremo. Non siamo stati noi! Credimi, non siamo stati noi! No, 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 non siamo stati noi! Gustus mi aveva avvertito, ma non gli ho dato ascolto. Lexa, ti prego! Cosa cosa, Clark, quando hai affondato il coltello nel cuore del ragazzo che amavi, non hai desiderato che fosse il mio. Ada! Quello non è mio! Vi dico che non è mio! L'ha messo mentre mi perquisiva! Che nessuno di loro osi lasciare questa stanza! Che nessuno di loro!